Sapevamo che era fondamentale contro una difesa a quattro magari aprirla e poi quando arriva il cross Dimash ha un piede incredibile, mette sempre palle importanti quindi è giusto arrivare a chiudere sul secondo palo. Dopo il Genoa eravamo tranquilli, comunque lo sapete meglio di noi, avevamo avuto solo tre settimane di preparazione, quelle che sono andate in nazionale, abbiamo avuto un po' di problemi fisici, quelle che erano in nazionale, noi vogliamo continuare dove abbiamo lasciato l'ultimo campionato, vogliamo continuare così, giocare pallone, creare occasioni, sicuramente quest'anno tutte le squadre vogliono mettere noi in difficoltà, questo lo sappiamo.